Questo è il resoconto della seconda parte del live test sul Marans Model 40N, un applicatore integrato con una pregevole sezione digitale e uno streamer compatibile con i principali servizi come Spotify, Tidal e Amazon HD. Dopo la sortita nel punto vendita centro musicale della settimana scorsa, stavolta ho deciso di far danni da gruppo Garman che ha messo a disposizione una coppia di Polk Audio Legend L200 e un subwoofer Definitive Technology Descent DN12 con driver da 12 pollici e doppio radiatore passivo sempre da 12 pollici. Un po' esagerato ma si fa sempre in tempo ad abbassare il volume del sub e poi con i dischi di Marco Ciconia non si scherza, quindi sulla gamba bassa volevo stare tranquillo. Da Garman ho focalizzato l'attenzione proprio sull'uscita sub del Model 40N e sulla possibilità di costruire sistemi in configurazione 2.1 trasformando di fatto una coppia di tranquilli diffusori da stand in qualcosa di decisamente più vicino ad un sistema da pavimento importante ma con la scena di un diffusore più piccino e con la versatilità di poter scegliere la posizione del sub in modo da armonizzarlo con l'ambiente e con i diffusori principali. Verificare l'apporto del sub non è stato semplicissimo perché le Polcaudio L200 da sole scendono fino a 40 Hz. Meno male che c'era Marco Ciconia appunto, è stato lui a scegliere le tracce giuste che hanno permesso di verificare sia l'ottima linearità che la straordinaria estensione in basso dell'intero sistema realizzato grazie a un posizionamento certosino e un taglio passo a basso a circa 50 Hz. Oltre al sub stavolta abbiamo utilizzato anche la connessione HDMI ARC collegando il Model 40N ad un TV Samsung 4K a cui a sua volta era stato collegato anche un lettore Blu-ray della Oppo in particolare. Abbiamo ascoltato non solo le sorgenti più comuni come YouTube e Amazon Prime Video ma anche il servizio Digital Concert Hall della Fila Armonica di Berlino, una specie di Netflix della musica accolta con video anche a risoluzione 4K che non dovrebbe mancare nelle case degli audiofili. Nel pomeriggio grazie alla disponibilità di un incauto avventore abbiamo potuto effettuare anche un confronto non pianificato ma estremamente interessante tra vinile, streaming da Tidal in qualità CD e file digitale ad alta risoluzione in formato DSD. Il risultato dovreste ascoltare con le vostre orecchie, presso uno dei punti vendita attrezzati per un test del genere e che trovate nella descrizione di questo file video. In ogni modo il Model 40N si conferma un prodotto molto ben riuscito, è dotato di una sezione digitale di qualità molto elevata, ha funzioni di streaming compatibili con la stragrande maggioranza dei servizi e può contare su una sezione di potenza che sfiora ai 190W per canale in regime impulsivo sul carico di 4 ohm e che non teme i diffusori più impegnativi.